Una pantera è un pallone incorniciato. In un cuore ecco il nuovo logo della CF lucchese femminile, la società che nel 2017-2018 difenderà per il secondo anno consecutivo i colori della città di Lucca nel campionato di Serie B. Un logo decisamente più aggressivo rispetto al passato, in linea, dice la società del presidente Chiocchetti, con le intenzioni di graffiare nel campionato nazionale di A proposito, sono stati ufficializzati i gironi. Queste le squadre che se la vedranno con le ragazze guidate dal confermatissimo Andrea De Luca. Grifo Perugia, Arezzo, Florenzia, Pisa, Lavagnese, Amicizia, Lagaccio, Genova, Ligorna, Molasana Boero, Novese, Romagnano, Juventus Torino, Torino, San Bernardo, Luserna e Musiello Saluzzo. Le prime tre accederanno alla Serie B Elite che scaturirà dalla riforma dei campionati. Il 27 agosto prenderà il via anche la Coppa Italia femminile con la CF inserita in un gironcino a tre con Pisa ed Empoli.